Italia pronta a salutare anche le mascherine. Via libera del CTS allo stop alle mascherine già dal prossimo 28 giugno. Il CTS ritiene che nell'attuale scenario epidemiologico a partire dal 28 giugno con tutte le regioni in zona bianca ci siano le condizioni per superare l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine all'aperto salvo i contesti in creino le condizioni per un assembramento. Dal 28 giugno superiamo l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto in zona bianca ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal CTS. Lo scrive il ministro della salute Roberto Speranza con un posto su Facebook. Secondo gli esperti del CTS sarebbe opportuno comunque mantenere il distanziamento se non si è congiunti e la mascherina andrà comunque indossata nei luoghi a rischio assembramento all'aperto così come sui mezzi di trasporto ma non quando si attavola. Sulla decisione è influito anche la percentuale di vaccini somministrati in Italia. Al momento già oltre il 53% della popolazione ha almeno una dose e circa il 27% ha completato il ciclo. Dovrebbe inoltre essere sciolta a breve la riserva sull'apertura delle discoteche che dovrebbero poter ripartire dagli inizi di luglio e sicuramente con l'obbligo del Green Pass. L'utilizzo del certificato verde sarà operativo dal prossimo 28 giugno nel nostro paese e dal primo luglio sarà utile per spostarsi in tutta Europa con la possibilità di ottenere il QR code attraverso le app Immuni o su Io oppure stampandolo in farmacia con il supporto del medico di base. Dubbi però per quanto riguarda la campagna. Venerdì scorso nella consueta diretta Facebook il governatore De Luca era stato chiaro sulla questione mascherina. A volte si determinano i meccanismi imitativi. Se si decide che è facoltativo togliere o mettere la mascherina, alla fine ci saranno soprattutto ragazzi che saranno imbarazzati a camminare con la mascherina quando la gran parte dei loro colleghi non lo fa. È uno dei motivi, ribadisce il Presidente, per i quali credo che manterremo l'obbligo di usare la mascherina anche in estate. È evidente che a casa, al mare, al ristorante se ne fa meno, ma con il numero di positivi che abbiamo ancora oggi non possiamo permetterci di correre rischi.